Identificato dalle fiamme gialle un imprenditore peruviano per evasione fiscale nella zona di Marotta per la mancanza di dichiarazioni dei redditi dal 2017 per l'attività del montaggio di stand e infissi. La Guardia di Finanza di Fano ha constatato l'assenza di dichiarazioni scaturiti dalle banche dati e delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute in sede di accesso accertando la mancata dichiarazione di oltre 340 mila euro di ricavi per l'anno di imposta 2017-2018 e la totale mancanza di qualunque documento contabile. Il rappresentante legale dell'azienda nel frattempo faceva perdere le proprie tracce rendendosi totalmente irreperibile e obbligando i militari a far intervenire per essere assistiti nel corso delle attività. Il professionista presso cui era domiciliata alla sede dell'azienda è risultato un commercialista della zona del tutto ignaro delle gravi irregolarità commesse dal suo cliente. L'esito del controllo effettuato dal corpo ha riguardato oltre l'evasione fiscale anche l'occultamento e la distruzione dei documenti contabili trasmesse all'Agenzia delle Entrate che ha attivato le procedure di ricerca del destinatario attraverso gli uffici giudiziari e comunali di Ancona dove è risultato avere almeno formalmente la sua residenza in Italia. Dall'inizio dell'anno l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha consentito con il solo riferimento agli evasori totali di fare emergere già 12 soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al fisco, occultando complessivamente ricavi per circa 14 milioni di euro.